Una reazione dignitosa, composta e compatta, compatta, quella percezione, quella percezione dove dobbiamo essere uniti contro il terrorismo globale e quindi le stanno, si stanno, si stanno, si stanno, si stanno, si stanno, e quindi le differenze si stanno, e quindi le differenze si stanno, si stanno, si stanno, i parlamentari italiani, si stanno, i parlamentari italiani, i parlamentari italiani contro il terrorismo globale, mi pare strano, mi pare strano, di affrontare un nemico comune, è una reazione dignitosa. Mi pare strano 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.